Si chiude con oggi al Salottino la mostra Percorso 900, una monografica dedicata a Edoardo Crum. Abbiamo voluto presentarvi questo artista perché benché sia molto conosciuto e apprezzato dai critici e dagli esperti d'arte, ancora è per la maggior parte sconosciuto al grande pubblico. È invece un vero maestro che ha percorso il secolo scorso attraversando tutti i cambiamenti che sono stati storici, sociali e culturali e fortemente artistici. Si è trasformata l'arte, si è trasformato il modo in cui essa viene esercitata, percepita, restituita dagli artisti al pubblico.